Allora, eccoci qua, benvenuti a tutti nella cucina di Gilda e oggi cominciamo con, dicci tutto? Allora, faccio un pan di spagna, che devo fare un dolcetto semplice, così oggi mi ha preso così. Allora, qui ho messo sei uova, e metto 240 grammi di zucchero, eccolo qua. Allora, prima che mi dimentico, metto proprio un pizzichetto di lievito, ecco fatto, io ce lo metto poco poco e prendiamo tutto. Eccolo qua, eh, dovete montarli bene, vedete, deve raddoppiare. Adesso, piano piano, mettiamo un po' di farina. Ecco, io la setaccio, anche se cade un pochetto, vedete? Ecco, piano piano, ecco fatto. Mettiamo l'altra, ecco qua. Dal basso verso l'alto. Allora, la farina è 240 grammi, 0-0, eh? Va bene? Va bene, cara. A posto. Regà, io già ho l'acquolina in bocca, non so se avete capito. Eh. Mamma mia, tiè, guarda qua. Ecco qua. È una crema a sti impasso, Gilda Retti, eh. Ecco, adesso ungo la teglia, ecco fatto. Io comunque, regà, un po' di farina ce la metto uguale. Antichella e petrella. Allora, ecco fatto. Va bene? Va bene che sì. E adesso? È bello. Mamma mia, ragazzi. Ecco, pregiamo. Questo. E adesso? Vai. E vai. Ah, che spettacolo ti è. Ecco qua. Allora, dicci un po' i misure, Gilda Retti, se no si scordiamo sempre. Ecco qua. Aspetta. Andano bene. Allora, 30. Che te ridi. Dì bene. Per 23. 30 per 22. Va bene, ragazzi. Eh? Oh, più sicure di così e misure in se poteva, eh? Ecco qua. Va bene? Va bene. Adesso la vado a infornare, forno caldo a 180, un quarto d'ora sarà cotto. Va bene? Va bene. Poi lo dico con precisione. Vai. Allora, adesso cominciamo a fare la crema, Gilda Retti. Allora, adesso faccio una cremina. Cremina, vabbè, panna e mascarpone. Va bene? Ok. Ecco qua. Ecco fatto. Allora, sono 250 grammi di mascarpone. Poi mezzo litro di panna fresca, panna fresca. E poi sono, allora, uno, due, tre, quattro cucchiai di zucchero, va bene? Va bene. Ecco qua. Allora, ecco, questo è il mascarpone e questo è la panna. Allora, io adesso sto sciogliendo un pochino il mascarpone, però poi frulliamo tutto quanto, montiamo tutto quanto, va bene? Va bene. Allora, ecco fatto. Ok. Allora, la panna, io lo dico sempre, allora la panna prima di montarla va messa dentro al frizz, al congelatore. Io ce la tengo dieci minuti e un quarto d'ora, adesso che è inverno, perché così non rischiate che vi si può acquagliare, vi si può riscaldare troppo, capito? Ecco. Così, tanto che si monta. Allora, eccolo qua, eh, adesso, siccome è venuto un pochino gonfio, io lo taglio un pochettino perché lo devo appareggiare, eh, che poi lo devo riempire. Eh, ma questo, ecco fatto. Guardate che bello. Ecco qua. E adesso, ecco fatto. Allora, adesso io lo devo tagliare a metà, questo, per quello che ce devo fare, perché io adesso questo qua lo devo riempire. Speriamo di andare dritta. Ecco fatto. Spero di sì. Ecco fatto, vai, sei arrivato. Adesso tagliamo il pezzettino del biscottino, che questo proprio lo mangio io. Ecco fatto. Togliamo pure questo. Taglio pure questo. Ecco fatto. Ecco qua. E poi taglio. No, devo girare, se no non mi riesce qua, ma in fine. E poi taglio pure questo. Eccolo qua, eh. Voilà. Ecco fatto. Dopo. E questo è il pan di spagna, vedete? Guardate che bello, guardate un po' che bello che è qua. Bellissimo. E mo' 10 minuti, lo faccio inchiepiti un pochetto perché ancora scoppa, e poi lo riempio. Allora, adesso la bagno con un po' di latte. Allora, il latte freddo, io non ho messo zucchero e niente. Solo latte. Solo latte. Ecco fatto, vedete? Ecco. Voilà. E la insuppiamo un po' di latte. Ecco qua. Facciamo delicata, delicata, eh. Ecco qua. Voilà. Mamma mia, raga, guardate che spettacolo. Un po' di panna. Ecco qua. Allora. Il latte per insuppare il pan di spagna è quello che si prende, vedete voi. Io, queste sono un paio di tazze, diciamo. Poi, secondo come lo volete, se volete più asciutto, più bagnato, non lo so. Ecco qua. Allora, con una tazza di latte hai bagnato quello. Questa è l'altra tazza per bagnare quest'altra parte. Eh sì. Ecco qua. Mamma mia, guardate che roba, raga. Ecco qua. Che spettacolo. Ecco qua. Adesso coprimo. Ecco fatto. E mettiamo l'altro latte qui sopra. Vedete? Ha un bagno sopra? Sì, sì. Certo. E se comincia, vai. Se comincia, se finisce qua. Tiè, che fa? Marco Oltrani. Mamma mia, che tortina tutta panna. Ma mi ha presa la voglia così. Mamma mia. Poi sta crema, panna e mascarpone, che vuole, devo dire. Tiè, guarda un po'. Ecco qua. Facciamo qualche rigamino. Ma meglio o peggio? Facciamoli. Ecco qua. Ecco fatte. Mettiamo le ciliegine. Eccole qua. L'abbiamo finita, Gildarè? Sparci vedere un po'. Ultima ciliegina. Eccola qua. Mamma mia, quant'è bella. Allora, adesso la metto in frigorifero e fra un quarto d'ora la tagliamo. Dai. Va bene. E faccio vedere fra una mezz'oretta. Mamma, è pronta sta tortina Gildarè? Si è rifrescata bene? Eccola qua. Mamma mia, che bella, raga. Faccio taglio? Che faccio, taglio? E certo, che domande fai? Taglia? Allora, io la faccio solo vedere. Vai, ti mangio. Vabbè, se la maniamo noi, vero, raga? Mamma mia, ragazzi, che spezzio. Fior di latte. Questa è la tortina di Gildarella, la fior di latte. Eh. Guardate che bella. Sperta, ve lo faccio vedere. Mamma mia, ragazzi. Questa fior di latte, né cioccolato, né niente, solo panna. Aspetta, fatela così perché è troppo buona. Sì, guarda un po' qua, mamma mia. Che pasticcera. Assaggio, eh, un pezzetto. Bella. Ma come, hai detto, ma faccio solo vedere, di ritare, ah, mogna, fa resiste, ah. Com'è, Gildarella è buona? Mh, quante buona, regà. Ecco, questo è il dolcetto che mi faccio io a Natale. Spettacolo. Vedete, semplice. Delicato, delicato. Ti, eh. La mangio io questa, eh. Mamma mia. Più grossa fetta che il piatto. Eh, no più niente. Vabbè, amori miei. V'è piaciuta sta tortina a fior di latte? Buonissima. Io vi mando tanti baci belli, sempre dal cuore. Vi amo, lo sapete. Piatto ricco. Mece. Guardate che bella. Ricco. E adesso un bacio a tutti dalla cucina di Gilda. Allora, torta a fior di latte. Fatela perché è squisita. Favolosa, delicata, delicata. Facile, facile, buona, buona. Ciao a tutti. Ciao belli. Ciao, ciao.